Grazie Presidente. Prima l'hanno pugnalato e poi gli hanno fatto la standing ovation, degni rappresentanti della Repubblica fondata sull'ipocrisia. L'essere democristiano presuppone l'arte dell'attesa, del compromesso, dell'autocontrollo, però diamine sarete anche uomini prima di essere democristiani. Esiste anche l'orgoglio, la dignità, l'onore. Letta oggi aveva una grande occasione, quella di dirci tutta la verità. Dire tutta la verità non è una caratteristica dei politici e ancor meno dei democristiani, eppure il deputato Letta ne aveva tutto il diritto. Letta è stato vittima di ripugnanti pugnalate, di volgari menzogne, di osceni giochi di palazzo, portati avanti da chi sa solo tutelare i propri interessi e crede che il popoluccio sia un greggio di pecore che abboccano ai continui slogan, alle subdole promesse, agli annunci regolarmente disattesi da quel mentitore seriale, nonché mediocre giocatore di PlayStation, nonché spin doctor di indagati e condannati che si chiama Matteo Renzi. Quel Matteo Renzi che ha definito Letta debole, incapace, poco cattivo, come se la cattiveria fosse una qualità degli uomini politici. Tuttavia mi domando, a parte l'abisso culturale tra Letta e l'attuale Premier, c'è stata così tanta differenza? Entrambi sono scesi a patti con Berlusconi con l'obiettivo di mettere da parte il Movimento 5 Stelle. Entrambi non hanno rispettato il programma con il quale il loro partito aveva preso i voti. Entrambi non sono stati espressione della sovranità popolare, ma primissime scelte di poteri forti, lobby del petrolio, del gioco d'azzardo, delle banche salvate a tutti i costi con i soldi dei popoli, come ci ricorda Papa Francesco. Oggi Enrico Letta lascia il Parlamento. Sappia soltanto che se un giorno dovesse mai tornare potrebbe trovare questo movimento di cittadini del Movimento 5 Stelle, che pensavate tutti avesse vita breve, al Governo del Paese, intento finalmente a tutelare gli interessi del nostro unico datore di lavoro, il popolo italiano. Grazie.